Questa è una città che va frequentata, la stiamo cercando. Come Confartigianato abbiamo tenuto, ci siamo contenti di aver potuto essere i promotori di questa iniziativa che porta un variosissimo numero di eventi sulla nostra città. Noi come Confartigianato Mantua normalmente assistiamo alle aziende della piccola e media impresa. Oggi però abbiamo voluto largare quello che è la nostra vista. Noi crediamo che sia importante che sia l'economia, la piccola economia con la cultura, con il turismo, con l'agroalimentare, possa portare, possa mettere i centrosi insieme, possa creare sviluppo per la nostra città e conoscenza per la nostra città. Quindi noi ci teniamo, sono eventi molto ben predisposti e curati e quindi ci teniamo a far bella figura e quindi come Confartigianato saremo sempre vicini alla città di Mantua per alzare il livello della nostra grande città. La prima serata avrà luogo appunto a Palazzo Tè dalle 9 alle 23 con 40 performer che rappresenteranno il sogno di Giulietta e la sera successiva, il sabato, gli stessi 40 performer e il sogno di Romeo. Quindi due grandi performance che vi aspettano. Io credo che questi eventi si commentino anche da soli, basta guardarsi intorno. Siamo in Piazza Erbe, nella centralissima Piazza Erbe e vediamo che la gente fa fatica a passare. I parcheggi intorno a Mantua sono tutti pieni, significa che la nostra città è una meta sicuramente da raggiungere, ormai è conosciuta, ma non dobbiamo abbassare la guardia, ma dobbiamo continuare a creare eventi perché Mantua ha un obiettivo da raggiungere per andare a vedere qualche cosa. Anche Mantua Lovers fa parte per il terzo anno consecutivo di questi eventi, con spettacoli. Quest'anno abbiamo, con novità, Mantua Loversa ha inserito anche poesie, spettacoli teatrali, cortometraggi di cinema e la solita enogastronomia che ci distingue come una delle cucine migliori in Italia. Dame e cavalieri, ad una festa come spesso capitava a Palazzo Lucano, erano sempre vestiti davidi meravigliosi e la musica si suonava per tutta la fama. Ed ecco il Luca di Mantua, bello, elegante, però sempre con quel sorriso che diceva un po' non fidatevi. Ci hanno chiesto questo spettacolo che parlasse di storie d'amore poco conosciute mantovane e quindi abbiamo creato una storia che passa per quattro piccoli episodi. Il primo è quello di Manto e del suo amore con il dio del fiume da cui nasce la città e poi abbiamo parlato della storia di Rigoletto e Gilda, dell'esilio di Romeo a Mantua e infine la storia di due bambini mantovani che si innamorano. Ma essere un indovina non è mai troppo facile e così un giorno Manto capì che per avere salva la vita doveva abbandonare la sua città. Noi siamo tutte e due nati a Mantua e quindi la prima esperienza di teatro l'abbiamo fatta alla scuola di Ars. Poi ci siamo tutte e due diplomati a Bologna, all'Accademia Galante Garrone e però siamo tornati qui più o meno ad abitare, poi lavoriamo anche un po' in giro ma è sempre un piacere tornare a collaborare con la scuola da cui siamo usciti.